o allora raga siamo qui appoggio a caniano alla festa di vino io sono bello ebriaco andiamo a vedere come si fa a fare il kebab quello grosso messo perrito nel tubo e arrostito perrito andiamo a vedere come si fa forza andiamo allora innanzitutto la carne la va fatta marinare bene bene nella pulizia sempre comunque nell'enorme digene vedete come fanno loro proprio in questa maschera dove ci sono puliti i piedi mettono tutta la carne a macinare topi anni che passa che passi con vento con il dito ecco e poi lavavano filzano questo tubo e bel benino sempre con le mani mi raccomando guanti perché è importante comunque digene la pulizia caratteristica di questi localini che va a bari ecco vedete i guanti e gli hanno soliti che ho usato per studiare il lavandino ma che bellezza ecco andiamo a completare questo rotolo di carne marcia questo gli è il vero kebab di appoggio solo come lo fanno appoggio ma adesso andiamo a domandare direttamente all'artificio e a questa artista per sapere che devono possibili e come lo fa lui ragazzi non lo fa nessuno lui è una vita e lo fa il foggio alla festa degli asinello a carmeniano quello che lo fa anche la festa di vino come lo fai io non lo fa nessuno anche l'azzo è stato è ottimo anche per pigliare i baci della perché io lo fò con la passione dopo proprio dicevo la passione dopo con le mie mani ragazzi quello fa lui non lo fa nessuno venite ai poggio a mangiare i kebab originale di poggio a cariano dove è nato di cielo lo fanno a cassiano ma sanno una sega il vero kebab ricordiamo non è di seano ma gli è di poggio perché ai poggio lo fanno girare per rito a seano lo fanno cose che pare o sono sanno una sega fanno ridere sarà una sega come si fa fai che va a bassiano senti che ecco fammela assaggiare dammela a me ragazzi esquisitezza niente via non c'è nulla a fare ma che poi non si fa con la schiacciata di montagnano si va a montagnana si riscarda a ti esquisitezza bella hard hard ma che roba